Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo. 41 persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro. E con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall'inizio dell'anno già quasi 2000 uomini, doni e bambini sono morti in questo mare, cercando di raggiungere l'Europa. E' una piaga aperta nella nostra umanità. Incoraggio gli esforzi politici e diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza, come pure l'impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e i soccorri inamericanti.